Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo su un gioco stupidissimo credo E... There is no game Questo non è un gioco Ciao Praticamente ho detto che Mi lasci parlare? Mi lasci parlare? Mi ha detto che ha delle brutte notizie Cioè che non... Non c'è nessun gioco E mi ha detto di andare a guardare la televisione A leggere un libro, a fare qualcosa Non c'è niente qua Va bene Va bene, ti lascio stare Prego Va bene, adesso me ne vado Tranquillo Non toccare il titolo Oh Ho scoperto un segreto Scusa Va bene Lo rimetto a posto, va bene Ma se io distruggessi tutto? Eh? Ah Questo non è un gioco Allora Che cos'è quella roba grigia Che sta scendendo dal soffitto? Eh? Hm? Ma lo devi dire questo? Ah Boom Hm Interessante Oh Zitto Ah Non ti voglio uccidere Ah Cosa? Credo di avere un'idea Oh Se l'ha fatta Ma Ah Neanche Superman riesce Neanche Superman riesce a distruggere questa Custodia E quindi? Ma se io prendesse questo direttamente Oh No, no Io me ne vado No, no, no Non hai capito niente Io ti smonto Ah si? È privato? Ah Quindi Derisa Ah Derisa Game Game Sì Ora ho capito Lui cercava di nasconderlo What? Non ho fatto niente Oh Finalmente è un vero gioco Chi è che dovrebbe Nascondere Chi è che dovrebbe Nascondere No Non ti voglio uccidere Voglio giocare Scusa Oh Carogna Tanto Venco lo stesso Ma E questa Che cos'è? Invece è davvero Molto ma molto divertente Cosa è successo? Cosa? No I glitch I glitch Si dà per tutto Oh mio dio Glitch Pensa Con l'accentro è una capra Ah Ho capito Goat Botta via tutto Dai Ha parlato di una capra E se tutto è giusto Giusto Ma è chiusa La chiave Una chiave No Come possiamo fare Come possiamo fare? Come possiamo Un albero Tri Un albero Lui da piccolo Ha scalato Un albero Vabbè Oh mio dio Glitch Si stanno espandendo Secondo me Devo finire la partita Oh Ho vinto una coppa Interessante Ah Ho capito Riempire l'acqua E darle all'albero Ancora non ci siamo Salve più acqua Ancora di più No Ok Ok ora posso salire Ok mi sono carrabbiato Quindi dobbiamo cercare qualcosa Uh Cos'è? È caduto qualcosa Uh È interessante Ah lo vuole spaccato Vuole quello che c'è all'interno Quindi No Sì Ce l'ho fatta Ok Chiunque tu sia Ti salverò La chiave La prende No Caduta What? Se mi fai prenderla Salva capra Salva il mondo No No The cult was alive A lie It's getting worse More glitches I'm No No E' così che finisce tutto E' così che finisce tutto Eh sono felice per te Lo dobbiamo perdonare Per quello che mi ha fatto passare Io direi di no Ma È meglio perdonarlo dai Siamo gentili con lui C'è? No 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 Non è una buona idea All'altro Perché? Perché? Perché Non è un gioco Ok Questo E' There is no game Un gioco che Praticamente non è un gioco Un gioco in cui non devi fare niente No sto scherzando E' un gioco che E' come ha detto lui In gratis Infatti ha detto Ti vorrei Ti voglio dare il rimbolso Ma Il gioco è gratis Infatti lo sto giocando online Su un sito internet Ok scusate piccolo problemino tecnico Ok Questa è la fine del video Cioè di There is no game Che sarebbe un gioco Strano Davvero molto Ma molto strano E' utile soltanto Per imparare l'inglese Comunque Per questo video è tutto Ciri ciao 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 Ciao